Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati nuovamente su Cannotv. Oggi torniamo a parlare di Zagor, perché da qualche giorno a questa parte è uscito in edicola il terzo Zagor+, che voi potete trovare al prezzo di 6,90€ per circa 200 pagine, grosso modo mal contate. Non ho visto bene quante siano, ma su per giù dovremmo essere attorno alle 200 pagine per quella che è la terza riproposizione dell'evoluzione dei maxi Zagor, che come ben sapete non esistono più, si sono istinti. Gli unici maxi che continuano a sopravvivere in perterriti, coraggiosamente continuano ad apparire in edicola, non si sa ancora per quanto tempo, sono quelli relativi a Tex, mentre invece Zagor appunto ha subito questa evoluzione. I maxi si sono ridotti, anche nel prezzo, oltre che nella fogliazione, e oggi abbiamo a che fare con gli Zagor+, che alternano dei numeri composti da, più storielle, i cosiddetti racconti di Darkwood, che comparivano anche sui maxi, ad altri dove vi sono delle vere e proprie storie lunghe che appunto occupano tutto quanto il volume. Il primo Zagor+, era suddiviso in raccontini, in racconti di Darkwood, il secondo Zagor+, che a me aveva soddisfatto meno, più che altro perché non ci avevo visto quasi nessuna differenza con le storie solitamente proposte nella serie regolare, aveva una storia appunto lunga tutto quanto il volume, per la terza uscita dello Zagor+, siamo nuovamente ritornati ai racconti di Darkwood, come ci mostra Alessandro Piccinelli, illustrandoci, diciamo, questa copertina di questo numero che ha un titolo, ecco, molto, molto giovanile, siamo super giovani, perché infatti si intitola Il Raduno dei Trapper, cioè, non so se rendo bene l'idea, tutti quanti che criticano a Zagor è un fumetto da vecchi, lo leggono solo quelli con il bastone, senza denti, a cui abbiamo addirittura un raduno di Trapper, quindi non è che ce n'è uno o due di Trapper, è addirittura un raduno, per cui, so, più giovanile di così, più giovanile di così, che cosa desiderate? No, in realtà non è quel tipo di Trapper, sono gli altri Trapper, 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 non so bene che differenza ci sia, i cacciatori nordici, quelli cacciatori di pelli, quelli, i cowboy del nord, quelli che si muovono nel freddo, no, e che commerciano, avventurieri, Corvo Rosso non avrei il mio scalpo, quel genere di Trapper lì, ecco, non quelli che si sentono in radio, quelli sono altri Trapper. Ad ogni modo, come ci mostra la copertina di Alessandro Piccinelli, è una copertina anche piuttosto rilassata, no, perché possiamo vedere Zagor addirittura sorridere, quando in realtà, solitamente, diciamo, nella serie regolare, lo vediamo in situazioni anche più, un attimino, pericolose, no, quindi, ecco, meno rilassato, qui invece sta ingaggiando amichevolmente uno scontro con uno di questi Trapper, Trapper, cacciatori nordici, cowboy americani di quelli tanto vestiti, ma Zagor, nonostante si trovi in mezzo ai Trapper, e quindi ragionevolmente anche in ambientazioni, diciamo, piuttosto fredde, continua a sfoggiare i suoi muscoli nudi, ma lui è Zagor, quindi se lo può permettere, e, insomma, una copertina più rilassata, più scansonata, quella di Piccinelli, che secondo me interpreta alla perfezione questo numero, perché questo albo è molto scansonato, e vi dico già subito che a me è piaciuto, ha divertito. Entriamo un po' dentro l'opera e cerchiamo di raccontarla in maniera più dettagliata. Innanzitutto troviamo un'introduzione ad opera di Moreno Burattini, il curatore di Zagor, dove un po' ci anticipa quello che noi andremo a leggere nel corso di questo volume. Ci viene un po' fatta la presentazione delle varie storie, dei vari autori che vi hanno lavorato, quindi dei vari disegnatori, e già sui disegnatori mi sentirei dispendere qualche parola, perché, come avevamo anche visto nel primo, appunto, Zagor più che presentava anch'esso i racconti di Darkwood, questi racconti presentano uno stile grafico inconsueto rispetto alla serie regolare del personaggio. Sono infatti chiamati a rapporto disegnatori del calibro di Walter Trono, di Arturo Lozzi, di Antonella Vicari e di Luca Dell'Uomo, che hanno dei tratti molto personali, molto diversi, differenti da quelli che solitamente, appunto, vediamo apparire sulla serie regolare. Mentre invece, alla sceneggiatura, abbiamo Luigi Mignacco, Luca Laca Montagliani, Marcello Bondi e Diego Paolucci, con una storia di raccordo sceneggiata da Burattini e disegnata da Stefano Voltolini, che funge un po', appunto, da collegamento, no, a tutte queste quattro storie che noi poi nel corso della storia leggeremo. Storie che ci verranno raccontate, appunto, durante il famoso raduno dei trapper, dei trapper, non lo so, fate un po' voi, che ci viene menzionato in copertina, che è una, diciamo, un'ambientazione, insomma, un accadimento, ecco, regolare, ricorrente, scusate, nella saga zagoriana, no? Abbiamo già visti parecchie volte, questi trapper, questi trapper, per, insomma, questi trapper, questi cacciatori nordici, questi vichinghi, no, vichinghi è un'altra cosa, e riaunirsi per così, diciamo, fare festa, no, raccontarsi storie, ecco. E a proposito di storie, vengono raccontate da alcune vecchie conoscenze di Zagor e Cico molte storie riguardanti, ovviamente, il nostro spirito con la scura. E io ve le racconto, no, un po' queste storie, iniziando dalla prima, che si intitola Il mostro del plenilunio, che, insomma, come già si può intuire, no, dal titolo, parla di lupi mannari. Ecco, io chiaramente non ve le racconto più di tanto, perché sono storie di una quarantina di pagine l'una, circa 30-40 pagine, quindi sono storie piuttosto brevi, che correrei il rischio di spoilerarvi, no, qualora mi addentrassi più di tanto nella descrizione, e quindi mi limito a dirvi che la prima storia è di stampo sovrannaturale, anche se più o meno quasi tutte sono di stampo sovrannaturale, e riguardano i lupi mannari, no? Ecco. Una storia disegnata, sì, disegnata da Walter Trono, sceneggiata da Luigi Mignacco. Ora, Mignacco è uno sceneggiatore già ben noto ai lettori bonelliani, mentre invece Walter Trono è un disegnatore che possiamo trovare regolarmente sulle pagine di Dragonero, e che su Zagor abbiamo già visto all'opera sulla serie Le Origini. Infatti ha disegnato uno dei sei albi che componevano quella serie anche molto apprezzata, e ha uno stile di disegno differente, rispetto, ecco qui, qualche tavola che io vi mostro di Walter Trono per, appunto, per dimostrarvi, no? Che il suo stile di disegno, ma anche proprio nella scelta, no? dell'impostare le griglie, è sicuramente differente dalla serie regolare, e sono dei disegni molto soddisfacenti. Io faccio che mostrarvi la prima tavola che apre, diciamo, questa storia, questo breve racconto, eccola qui, mentre invece nella pagina accanto possiamo vedere le tavole sicuramente più classiche, no? Di Stefano Voltolini, che comunque anche lui è molto bravo, lo vedremo poi più nello specifico dopo, ma questa tavola iniziale, diciamo, di Walter Trono che ci apre un po' questa storiella, è veramente molto bella, per cui vedete insomma, uno stile di disegno sicuramente inconsueto, di quelli che non si vedono tutti i giorni sulle pagine di Zagor. Guardate anche il nostro eroe come è ritratto bene, ci sono dei primi piani che esaltano l'espressività di Zagor e vi sono poi altre tavole che ne esaltano alla perfezione, secondo me, la muscolarità del personaggio. Guardate che meraviglia a questa tavola con Zagor che si sposta utilizzando appunto il suo speciale metodo. Per cui sono veramente delle tavole molto belle, veramente molto interessanti, anche quelle insomma ambientate di notte, vedete questa creatura con la quale poi dovrà misurarsi Zagor, non vi dico e non vi mostro di più, sono veramente molto ben fatte e ci catapultano diciamo nell'atmosfera di questa di questa di questa storia. E questa era la prima di queste vicende. Andiamo poi alla seconda che è disegnata da Arturo Lozzi che ha fatto secondo me un lavoro meraviglioso ed è sceneggiata da Montagliani, si intitola Un canto di Natale e a proposito di questa storia se noi andiamo a leggere l'introduzione di Moreno Burattini ci viene spiegato che in realtà questa storia sarebbe una sorta di sequel quindi di seguito di una breve avventura scritta da Nolitta da Bonelli e quindi illustrata da Franco Donatelli disegnatore classico intitolata Natale calibro 45 una storia che era uscita nel dicembre del 69 sulla serie zenith quindi sulla serie regolare Natale calibro 45 sembra un poliziottesco di quelli con Thomas Millian e Maurizio Merli bellissima io non l'ho letta quella storia ma non ho avuto difficoltà diciamo a comprendere questa quindi è una storia che si può tranquillamente leggere così a sé stante che in qualche modo riguarda una insomma una creatura mostruosa che però poi noi scopriremo avere delle determinate intenzioni che anche qui non vi dico più di tanto è una storia sovranaturale è una storia anche natalizia perché è ambientata alla vigilia di Natale quindi vediamo insomma un po' questa ambientazione particolare e poi ci sono dei disegni fantastici di Lozzi cioè qui siamo veramente su su livelli insomma io vi mostro qualcuna di queste tavole giusto per farvi capire ve la mostro anche più da vicino giusto così per farvi capire a che livello di splendore arrivano i disegni di Arturo Lozzi Arturo Lozzi se non vado errato l'abbiamo visto sul penultimo Old Boy di Dilan Dog mi pare ma mi pare di sì ma qui ci sono i disegni insomma io vi mostro questa doppia splash page con qualche con qualche vignetta però è un qualcosa di guardate che meraviglia cioè questi sono veramente i disegni che io ricerco in un albo speciale della Bonevi quindi disegni che in qualche modo si stacchino diciamo dalla dalla classicità dalla tradizione delle serie regolari e qui la mia richiesta viene esaudita perché questi disegni sono veramente meravigliosi guardate questa questa espressione qua di Zagor come è veramente efficace e c'è davvero uno uno stile di disegno davvero davvero molto bello poi io non vi mostro più di tanto magari ecco vi posso mostrare qualche volto anche qua siamo siamo davvero su livelli alti altissimi veramente su su vertici altissimi per cui c'è c'è davvero un ottimo lavoro da parte del dello sceneggiatore e poi non vi mostro altre tavole per evitare di di farvi qualche spoiler diciamo questa però no questa questa immagine qua di Zagor è bellissima c'è proprio tutta quanta la la muscolarità di questo eroe ecco è proprio messa in risalto l'epicità del personaggio di Zagor per cui disegni che mi hanno assolutamente soddisfatto in tutto e per tutto e questa era la seconda storia che compone questo volume e andiamo andiamo avanti fino ad arrivare alla terza storia che ve lo posso dire è quella che mi è piaciuta di più di queste quattro quella che mi ha divertito di più perché è piacevolmente assurda si chiama Lo squadrone maledetto è sceneggiata da Bondi e disegnata da Vicari o Vicari non so bene come si pronunci disegnata molto bene vi mostro la prima insomma la prima tavola guardate che meraviglia questa panoramica no? questa complessiva insomma questa prateria diciamo ai margini della foresta di Darkwood Zagor e Cico vengono fatti prigionieri così senza motivazione senza apparente motivazione da una batteria di soldati che si scoprirà in qualche modo essere controllata da dei ragni giganteschi da dei ragni giganteschi che chiaramente necessitano di cibo ragni che io e io ve li mostro questi faccio che mostrarveli questi ragnoni ed è è meravigliosa anche questa storia è piacevolmente insomma piacevolmente assurda con mi ha ricordato molto la fantascienza degli anni 50 ecco quei vecchi film no? peraltro c'era c'era proprio un film che si chiama Tarantola mi pare del 56 o qualcosa del genere che poi è diventato uno dei capisaldi della fantascienza cinematografica anni 50 c'era persino un giovanissimo Clint Eastwood che faceva un brevissimo cameo ma è un un grande film veramente un film molto bello che io consiglio di recuperare e anche questa storia è quel piacevolmente assurdo che a me soddisfa soddisfa sempre molto e io ripeto ancora una volta l'avevo detto già in altre occasioni parlando di Zagor io sebbene sia un amante del western del western anche classico sia a livello cinematografico che anche a livello fumettistico a me di Zagor piace molto questa sua parentesi diciamo assurda no? fantastica sovrannaturale perché di western c'è già Tex credo che Tex sia un western molto ben fatto e Zagor francamente mi piace di più ecco quando va sull'assurdo come in questo volume e poi arriviamo alla terza storia alla quarta scusate alla quarta e ultima storia che compone questo di cui si compone questo numero la miniera dei fantasmi è sceneggiata da Paolucci e disegnata da Luca Dell'Uomo che è un disegnatore che come ci viene detto da Moreno Burattini ha disegnato molti numeri di Dylan Dog anche numeri numeri celebri numeri storici quindi è un disegnatore che con i fantasmi insomma con l'orrore diciamo ha a che fare vi mostro la prima tavola di questa storia appunto dell'ultima storia che compone di cui è composto questo numero i disegni di Luca Dell'Uomo sono molto molto particolari sicuramente molto particolari per una storia che in qualche modo comprenderà una sorta di miniera nella quale sono scomparse alcune persone e circolano voci riguardanti la presenza di presunti fantasmi ecco io non vi dico più di tanto sarà poi Zagora scoprire bene quello che c'è dietro però sono tavole veramente molto molto belle molto molto ben fatte anche queste quindi che cosa dire quattro storie veramente simpatiche che presentano degli stili differenti enormemente differenti fra loro va citata giusto per completezza l'ultima storia che poi è la storia di raccordo che funge sia da prologo che da epilogo di tutto l'albo appunto sceneggiata da Burattini disegnata da Voltolini dove ci viene mostrato questo famoso raduno di trapper di trapper fate un po' voi non so come si pronunci bene quindi ci viene mostrato tutto quello che fanno i i cacciatori nordici ecco e e e poi compaiono anche alcune vecchie conoscenze no di 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 Zagora ecco qui questi sono disegni sicuramente più classici come stile più tradizionali potremmo dire ma ci sta perché comunque è la storia che funge che funge da raccordo no quindi ci sta che si ritorni un po' nella classicità dalla quale poi si si evade diciamo con le quattro storie che compongono questo volume ma è molto bello il il finale dove ci viene un po' ricordato che nella foresta di Darkwood può accadere qualsiasi cosa no quindi ci sono i vichinghi di Ray Guthrum ma ci sono anche i draghi acquatici i mostri a più teste stile idra e questo che cos'è lo ieti addirittura l'abominevole uomo delle nevi per cui insomma è proprio quello che ci piace di Zagor insomma l'assurdo il sovrannaturale l'idea che possa succedere qualsiasi cosa nella foresta di Darkwood questo era il mio pensiero circa il terzo Zagor più che io mi sento di consigliare perché è una lettura molto simpatica molto divertente e piacevolmente assurda in terza di copertina la pubblicità di Nick Rider le nuove indagini che da oggi 23 novembre esce in edicola e lo si può trovare in edicola in quarta di copertina invece vi mostro l'anticipazione del quarto Zagor più che troveremo in edicola a partire dal 22 febbraio quindi dovremo aspettare ancora un pochino quarto numero che ci presenterà una storia unica quindi a confermare quell'alternanza di cui parlavo prima sulla sulla pubblicazione appunto dello Zagor più io vi ringrazio per l'ascolto fatemi sapere se anche voi avete acquistato questo numero che cosa ve ne è parso se vi è piaciuto se l'avete gradito quale storia vi è garbata di più insomma parliamone insieme per il resto io vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti